Ehi, scommetto che non puoi battermi con quelle TK. Ho una civetta bolide ed è più veloce. Lol vorresti essere più veloce. Vuoi solo flettere il tuo bolide. Che ne dici di gareggiare? Sono giù per una gara. Pronto. 3, 2, 1, partire. Ok, questa gara dovrebbe essere facile perché tutto quello che devo fare è assicurarmi che non mi basta. Ok, quindi se vincerò questa gara manterrò la calma e guiderò e poi a un buon punto spedirò completamente. Ok, ora mi allontano da lui. Dovrebbe essere facile. Cosa? Come diavolo ha fatto raggiungermi? Non c'è modo. Ciao. VINCO BOY VINCO BOY